Musica Amici carissimi dell'Umbria Veredigiada, salve a tutti. Mi trovo presto il Tennis Club di Perugia e mi accompagnò il Vice Presidente, il Dottor Massimo Balzana. Vice Presidente, ben trovato in questa bellissima giornata di giugno qua al Tennis Club. Un'iniziativa veramente importante per i ragazzi, i giovani. Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità. Siamo qui al Tennis Club Perugia, una struttura che è data tanti decenni. La datazione della prima fondazione del Tennis Club Perugia è data 1899, quindi è una struttura di grande tradizione. Siamo qui in una location meravigliosa, a due passi dal centro storico di Perugia, a due passi da tutto quello che è la storia millenaria di questa città, nelle sue varie declinazioni etrusca, romana, medievale, rinascimentale, moderna. Quindi siamo vicini al centro storico, ma in un'oasi di verde e di pace meravigliosa, dove io stesso sono cresciuto fin da piccolo, dove sono cresciuti i nostri figli, dove si può veramente far crescere i bambini in un'atmosfera di serenità, di tranquillità e di sport, cosa importante per la formazione non solo fisica, ma anche psicologica, intellettuale e spirituale. Siamo qui stasera anche per presentare quello che è il nostro progetto di scuola tennis. Conosceremo adesso il direttore della scuola tennis del Tennis Club Perugia, maestro Romeo Lavoratori e la scuola tennis si occupa di tutti coloro che giocano a tennis, dall'età più tenera dei bambini, con la SAT, con la scuola avviamento tennis, fino agli atleti agonisti più importanti, che noi speriamo raggiungano vette nazionali, ma anche internazionali. Quindi speriamo che molti verranno al Tennis Club Perugia, verranno accolti da un'atmosfera amichevole, gioiosa, simpatica, educata. Abbiamo anche, oltre i sei campi, una palestra appena ristrutturata, una bellissima piscina, un ristorante che propone un'ottima cucina e quindi vi aspettiamo numerosi. Vicepresidente, vorrei solo due parole. Abbiamo ripreso tutto questo da pochissimo, dai mesi passati con il Covid-19, quindi cerchiamo di far capire ai nostri telespettatori che presso il Tennis Club di Perugia è tutto in sicurezza. Sì, assolutamente tutto in sicurezza. Abbiamo, nonostante il periodo del lockdown, quindi in cui il circolo è stato chiuso come da disposizioni governative, è stato manutenuto in maniera perfetta dai nostri due bravissimi custodi, Pasquale e Andrea, che come potete vedere hanno tenuto il circolo in maniera meravigliosa. Siamo in regime di assoluta sicurezza, infatti abbiamo approntato dei protocolli in osservanza di quello che sono i protocolli nazionali dettati dalla Federazione, quindi dalla FIT, per cui c'è un ingresso e un'uscita separati dal campo, sanificatori al cambio di campo per le mani. Abbiamo, da domani riapriremo anche gli spogliatoi, sempre con criteri di assoluta sicurezza, quindi gli spogliatoi saranno, le dimensioni dei nostri spogliatoi consentono a quattro atleti alla volta di cambiarsi, di fare la doccia in assoluta sicurezza, mantenendo le distanze fisiche di sicurezza, come da dettami scientifici. Abbiamo anche messo in atto dei dispositivi di sanificazione, dei dispositivi di alta e nuova tecnologia, che utilizzano un sistema di ionizzazione ossidativa, per cui abbiamo la certificazione di virus free, sia negli spogliatoi, che in segreteria, che nella sala ristorante e bar. E quindi direi che lavoriamo in assoluta sicurezza, aspettando e sperando che questa emergenza Covid sparisca veramente quanto prima. Ringraziamo il Vice Presidente del Tennis Club di Perugia, il Dottor Massimo Balsana. A presto! A presto! Grazie per la visione!